Laia, laia, un provino importante per favore, ci darei ad essere puntuale, mi fai passare prima della rossa? Nesrin, occupati del salone, io devo uscire per un po', si? Buongiorno signorina, sarebbe molto più bella con la sua cintura, si ma preferisco non metterla Basta signora, lasci stare Non giovanotto, ne ho abbastanza l'avvento, adesso vado a chiamare un poliziotto Ma chi vuole chiamare, sono io un poliziotto Sinceramente se lo metta quel mostro, non è niente male Sembra niente male, questo non va bene Benvenuta la futura moglie, benvenuta figlia mia No, ma smettila C'è qualche problema? No, ma tutto più che meraviglia Sì papà, la mamma si sta fumando una canna dal vicino Quanto sei bella, angelo mio Buongiorno Buongiorno Si accamodi La mia esistenza è dominata dal rumore del claxon, ma la cosa peggiore è di non riuscire a conoscere la donna che lui non riesce a lasciare Buongiorno E' tutto questo perché lui non mi chiama Ha fatto bene a non venire, il dolce si è sciolto tutto Che cosa si potrebbe mai fare a un viso così carino? Fai scaldare lo zucchero per favore Fai scaldare lo zucchero per favore Grazie a tutti